Il digitale trasforma tutte le aziende, in particolare la catena del valore delle aziende. Se noi guardiamo l'area del CFO, l'area funzional, anche qui ci sono delle aspettative grandi. Uno dei temi, sono tanti gli aspetti su cui il digitale cambierà il modo di lavorare dell'area CFO, ma uno dei temi secondo me da sottolineare è la velocità con cui si prendono le decisioni, la profondità con cui si fanno le analisi, ma soprattutto la velocità rappresenta secondo me l'elemento dirompente. Questo consentirà al CFO rapidamente, se si sfrutta questa opportunità anche tecnologica, di servire al meglio quella che è la prima linea dell'amministratore legato e l'amministratore delegato ne stesso nel costruire insieme quello che sarà il business del futuro. Alcuni elementi di questo, alcuni ulteriori impatti di questo digitale saranno sulle competenze, liberando spazio di tempo, perché abbiamo detto che rende tutto molto più rapido e molto più profondo, consentirà a tutto il team del finance di acquisire competenze nuove e anche una visione più ampia di quello che è il business aziendale. Uno dei temi importanti, a mio avviso, di questa rivoluzione digitale sul mondo del finance sarà appunto il fatto che consentirà che la digitalizzazione, il digitale consente di mettere insieme dati operativi e dati finanziari in una maniera molto più integrata, anche cogliendo l'opportunità di integrare i dati che sono rilevanti per l'azienda che provengono dal mondo del web, cioè dal mondo esterno all'azienda. Questo rappresenta veramente un'evoluzione epocale, diciamo, nel modo di lavorare di un CFO e incrementerà il valore aggiunto che lo stesso CFO può dare all'azienda in maniera determinante. Ciò che si era detto e si era auspicato negli ultimi dieci anni, oggi si può avverare in un tempo rapidissimo e molto veloce. Per noi il digitale è un elemento dirompente di quello che sarà il futuro, la trasformazione delle aziende. Quindi come stiamo impostando il nostro contributo? Da un lato indirizzando insieme a System Integrator quelli che sono gli elementi tecnologici, ma dall'altro, in maniera più importante, cambiando i processi di un'azienda. Digitalizzarsi sul front-end di un'azienda, lato customer, non significa niente se anche l'azienda in sé, tutti quelli che sono i processi che alimentano, che portano l'informazione, il modo di lavorare con i clienti, cambiano. Quindi noi siamo interessati a definire una strategia, a definire come i processi devono cambiare per consentire all'azienda di sfruttare al meglio quello che è la rivoluzione digitale. Questo in genere è il nostro ruolo e che quindi è un ruolo di partner con i System Integrator e con i software vendor che sono, diciamo, intorno a questo mondo. In Italia le aziende sono partite nello sfruttare il mondo digitale, in particolare il big data, gli analytics, un pochino meno l'Internet of Things, sulla parte più naturalmente dove si applicava di più e quindi la parte customer, la parte commerciale, il front-end, avviando via via e stanno via via estendendo applicazioni e cambiamenti di business alle altre aree funzionali. L'area CFO di cui abbiamo parlato prima è quella che la sta vivendo in maniera più attendista ma in realtà sta capendo in questo momento, anche grazie a tutto il flusso informativo che arriva dagli operatori del settore, le potenzialità che tecnologie digitali, quali analytics o big data, possono portare alla professione del CFO stessa, alla sua capacità, alla sua efficacia nell'ambito della gestione dell'azienda e nel fare partner con quello che è l'amministratore delegato e tutta la sua prima linea. Quindi vediamo una prima fase di studio, di analisi, ma in questo momento stanno accelerando i progetti che portano il CFO a sfruttare al meglio tutto quello che è la rivoluzione digitale, in particolare in Italia.